Siamo alla diciottesima giornata di campionato Il pomarico affronta fuori casa il campo maggiore Dove pareggerà riuscendo a portare a casa un solo punto Ma che vale come una vittoria visto il gioco espresso Inizia così il primo tempo Un campo maggiore ha guerrito contro il pomarico Visto il 5-0 dell'andata non ancora digerito Il campo maggiore trova la rete del vantaggio al decimo del primo tempo Ma il pomarico non molla e al 45esimo con perillo Sul calcio di rigore porta in parità l'atletico Finirà poi il primo tempo con il parziale di 1-1 Nel secondo tempo il pomarico acquista sempre di più fiducia nei propri mezzi Infatti al settantesimo lo frumento porta in vantaggio il pomarico Sembra fatta per il pomarico Ma sul finale di gara il campo maggiore pareggia con un colpo di testa sul calcio d'angolo Un pomarico sfortunato ma che avrebbe meritato di vincere largamente Dallo studio è tutto, ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti